professore allora questo ordigno esploderà la settimana prossima che conseguenze che se ci sono e che tipologia di queste possono essere come conseguenze per l'ambiente marino diciamo le conseguenze sono diverse dipendono da dove l'ordigno l'ordigno a 2 miglia della costa la profondità dovrebbe essere sui 14 metri non tanto 40 per 40 metri troviamo quasi a 18 miglia quindi comincia a muoversi molto più fuori ma alla zona 2 miglia è una zona di dove il fondo comincia ad avere una percentuale più importante di sedimento fangoso quindi di sabbia della costa eccetera c'è una massa molto poca quindi in questa zona cosa ci vive normalmente ci sono le canocchie che vivono nelle rotane poi ci abbiamo la zona delle soglie dove le soglie evidentemente si nutrono e si spostano tranquillamente ci abbiamo un poco di mazzoline però ci sono degli altri molluschi ci sono dei crostacce degli organismi che ci vivono normalmente come dappertutto in tutto il mare e che cosa gli succede a questi organismi dipende più o meno quello che sarebbe successo a qualcuno che stava nella zona rossa qui vicino a dove si doveva esplodere prima c'è un'onda d'urto e anche dell'acqua questo onda d'urto c'è c'è una mortalità di quelli che stanno più vicino e che a un certo punto dove c'è l'esplosione evidentemente quelli che stanno in un certo raggio muoiono dipende quant'è la quantità di esplosivo e quindi la dimensione del raggio problemi di inquinamento eventualmente per il fondale con i sedimenti c'è il fondale accennava prima che un fondale fangoso quindi insomma rocce e altre cose non non hanno conseguenze no sulle rocce non ci sono conseguenze se farà un buco fra una buca più o meno profonda che ci metterà un po di tempo piano piano per riaccumularsi con il trasporto del sedimento dalle parti vicine che ritornerà quindi avremo un avvallamento però diciamo che nella zona 2 miglia della costa la pesca strascico è vietata e di conseguenza non è che nemmeno avremmo il rischio che una barca va a pescare trova un buco tutto all'improvviso per la sua rete e quindi ci resta la rete impigliata del fango eccetera lì la pesca strascico è vietata le vongolari non ci arrivano perché troppo fuori quindi è una zona penso che non ci dovrebbero essere degli impatti negativi nemmeno per la pesca grazie